L'unica prova che sarà presente è quella a squadre, sicuramente l'obiettivo sarà di migliorare il posto ottenuto ai mondiali di Roma e anche agli ultimi giochi, ma diciamo che non andiamo troppo indietro nel tempo. Noi speriamo, infatti, il nostro obiettivo è quello di riuscire a superare la Cina. La Cina che vi ha scavalcati ad Atlanta dieci giorni fa, ecco termina l'inno.